salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video voglio ringraziare tutti grazie a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video allora innanzitutto grazie a tutti per il traguardo raggiunto di 1500 iscritti e in questo video risponderò alle vostre domande sotto al video Maria non risponde grazie allora prima domanda dice Daniel Gamer vicino zi mon d'un dost allora tecnicamente ho zi son ghi quindi automaticamente tu mon d'ust non so se ti conviene quindi penso aver risposto alla prima domanda seconda domanda farai un altro video con sasame dei semi spero proprio di sì perché come si può vedere nel video è stato uno spasso troppo grande uso è stato spastosissimo ci siamo divertiti quindi sì cercherò di convincerlo e di convincerlo non è stata cosa facile quindi ci riproverò ci riproveremo anche grazie a Daniele lo mettiamo sotto e vediamo di convincerlo terza domanda terza domanda allora hai cambiato qualcosa nella tua postazione sì sicuramente infatti l'ho fatto dire anche negli altri video ho preso un monitor nuovo ho cambiato il pc che ultimamente mi ha lasciato sono stato costretto un'unifici nuovo il monitor più grande ho preso la ps4 quindi ho cambiato posizione qua magari ve la farò vedere in video cosa si è cambiato all'ultima volta allora qui ho creato lo spazio nel quale registro infatti qui ci metto la mia action cam uno spazio libero dove poter registrare perci lavorare e poi come ho detto prima e si vede anche nell'altro video il monitor è nuovo molto più grande e si vede anche nella box in più iscriviti 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 poi ancora vediamo Playstation 4, altro pezzo aggiunto alla mia postazione ah diciamo piccola picca eh si c'è Sky Q, quindi posso dire Sky Wing da me la mia e poi questa mega tastiera multicolori con i mouse uguali e penso che vi è fatto un bel salto di qualità PC e poi se lo dite solamente iscrivetevi al canale iscrivetevi domanda successiva allora, allora, allora farai qualche libro come gli altri youtuber? spero proprio di sì ovviamente penso che devo crescere ancora come youtuber il mio canale deve crescere ancora parecchio perché rispetto agli altri sono ancora abbastanza a livello basso però spero in futuro di vincere a realizzare questa cosa anche perché i video che gli altri portano un bel po' di introito quindi lo spero pure per me altra domanda quando farai il prossimo video con le risposte lo sto facendo adesso quindi voglio dire è questo qua il video con le altre risposte e poi sotto a questo qua mettete le altre domande se so contare bene siamo alla sesta domanda che dice qual è il tuo giorno preferito della settimana e quale invece non ti piace allora il mio giorno preferito è lunedì è assurdo perché il mondo intero odio e lunedì invece a me piace soprattutto perché di lunedì è la mia serie tv preferita invece quale giorno detesto a rumenica praticamente mi sta sulle palle non è proprio un giorno che non sopporto ma da sempre da quando andavo a scuola e mi è rimasto così anche se magari mi capita che non lavoro o quello che sia comunque la domenica non mi piace settima domanda che cosa ne pensi dell'ipotesi della piatta e dei raggiattisti della domanda diciamo che qua si vorrebbe fare un altro video completamente solo su questa domanda perché l'argomento è molto divertente complesso eccetera però diciamola in breve io personalmente non escludo nessuna possibilità però ci sono alcune particolari di questa ipotesi che invece non condivido per niente per esempio la spiegazione è che i terapeutisti chiamano effetto pacman cioè quella di entrare tipo entrare di qui e uscire di qui e poi entrare di nuovo qui quindi come tipo una sorta di video una cagata pazzista lo so che i terapeutisti mi attaccheranno ma no secondo me questa cosa qua non stai vivendo e anche altre cose ma non mi prolungo perché altrimenti siamo solo una giornata su questa domanda qua altra domanda allora quando è il tuo compleanno e quanti anni mi dirà il mio compleanno è già stato il 2 febbraio e ho compiuto 18 anni non è vero 40 anni lo stesso video come speciale lo facevo lo feci in macchina ma venne merdoso cascava la fotocamera una scena incredibile non mi piaceva non mi è venuto anche io ho cancellato e quindi possiamo riuscire in questo momento allora altra domanda che regalo chiederai a babbo natale natale è passato già da un po' di tempo però il regalo ci sta sempre che regalo chiederei una bella faggianuna ci starebbe bene decima domanda ci farei qualcosa di bello per natale come ho già detto prima natale è passato e ho già fatto un video di natale magari andate a vederlo e se non avete messo like ad ammettere però il prossimo il prossimo natale spero di fare qualcosa altro del genere qualche video simpatico e lo posterò undicesima domanda come mai hai aggiunto al tuo canale anche i video di minecraft allora innanzitutto come gioco mi piace infatti giocalo spesso sull'iphone poi l'ho messo anche sul pc e poi ho pensato che magari potesse essere anche un formato aggiunto a quelli che già avevo nel canale degli altri generi e potesse anche piacere e poi ci sono anche i video di minecraft altra domanda di daniela che mi chiede hai mai realizzato una struttura gigante allora si ne ho già realizzata una molti anni fa ho realizzato la scultura di robocop in grandezza naturale era veramente gigantesco e poi vabbè poi mi lasciamo stare però in realtà avevo intenzione di fare un'altra scultura ancora più grande ma il problema è questo è che per come la vorrei fare grande non ci va mai niente a questa stanza quindi non so dove metterla c'è l'idea ma non avrei lo spazio per poterla mettere ci vorrebbe forse il parcheggio dove poterla mettere la macchina perché vorrebbe una cosa ma sto dondita non dico di cosa si tratta perché farei uno spoiler a me stesso perché ho sempre l'intenzione di poterla fare però vi dico che è enorme e non c'è di ben anche in questa stanza Lorenzo mi chiede se ha avuto se è un animale domestico in passato li ha avuti quando ero piccolo il cane il gatto l'acquario i tartalughe per i animali adesso no l'unico animale in casa sono io quindi non è sempre sufficiente grande pami chiede Lauren o Esmeralda no 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 sbagliato è che una parola come si risponde no non so diciamo che ve le fari entrambe non so scegliere te due il grande Gesoski mi chiede quanti anni hai Cristo l'ho detto anche prima non so a quando siamo con le domande ma la prossima è di Lorenzo che dice qual è la tua serie di video preferita l'ho detto varie volte in vari video anche in questo qua The Walking Dead però ce ne sono anche altre che mi piacciono per esempio sto guardando sto guardando l'ultima stagione del trono di spade che mi piace molto di questi giorni quindi questo è un'etere Sandro Khan mi chiede hai altre passioni oltre la pittura sì varie mi piacciono varie cose per prima la pittura mi piace anche molto la numismatica infatti colleziono monete dovrei fare qualche unboxing di monete che ho da unboxare già da un po' di tempo che stanno là che stanno aspettando ah shish mi chiede ma voglio dire che cazzo è il nome allora la domanda è questa ho visto l'altro video hai trovato un alieno penso di sì ecco se hai visto il video se hai visto il video e hai visto cosa ho trovato un alieno sembra di sì direi di sì cioè non sono sicuro ma ha tutte le segnazioni di un alieno almeno così mi sembra prossima domanda quale è il tuo artista o pittore preferito allora è molto difficile rispondere a questa domanda perché mi piace l'arte in generale e tutti i pittori e poi ce n'è più di uno che mi piace mi piace molto Caravaggio Salvatore Dalì Michelangelo Leonardo Raffaello tantissimi artisti quindi è difficile rispondere dicendo il nome di un solo artista è meglio mi piace l'arte ecco questa domanda è bellissima conosci Germano Mosconi? ma chi è che non conosce Germano Mosconi? la risposta a questa domanda è Dio cane altra domanda quando fare un'altra mostra facci sapere sicuramente vero ho fatto la prima in posto del video ho fatto anche poco tempo fa la seconda eppure ho caricato il video adesso non so quando farò la terza ma penso che organizzerò anche nella terza occasione il video e lo caricherò nel canale in ogni caso magari mi informerò prima così chi vuole venire che vuole partecipare altra domanda sei gay? prima di tutto fa un culo perché devi mettere hashtag Mariano risponde e non hai visto è uno due mi piace la pagiana quindi vi do tutte le amiche che mi seguono se me la portate e vi faccio vedere ok? quello lo trovate su un altro canale la mia amica Gilda mi chiede hai ereditato questo talento da qualcuno in famiglia? la passione della te nella famiglia perché a tutti quanti piace per la mia famiglia quindi dire se lo erete da qualcuno in particolare è un po' difficile però posso dire una cosa di famiglia forse mi piace di più rispetto agli altri ma comunque mi piace a tutti ultima domanda sali sull'overboard un attimo solo ci salgo vai Giango spingi aspetta neanche tornare indietro è automati in salto grazie a tutti spero che ti sento andiamo se questo video vi sia piaciuto e vi è soddisfatto tutte le vostre domande su tal video adesso raggiungiamo i 2000 iscritti al prossimo video grazie a tutti